Amici, colleghi, vicini e lontani, buongiorno. Mi chiamo Michele Osso e sono oggi sul set di ripresa di DISTEC Controls a Lyon in Francia per presentarvi questa nuova trasmissione del DCTV show di DISTEC intitolata Evoluzione del ruolo del System Integrator nella Building Automation in Italia. In collegamento abbiamo Luca Tomasi, CEO e Presidente dell'azienda Technipost di Bologna e il signore Matteo Vecchi, responsabile commerciale Italia e Sud Europa di DISTEC Controls. Prima di iniziare questa discussione e entrare nel cuore del soggetto, vi propongo di definire insieme che cos'è un System Integrator. Per questo, Matteo, ci puoi dare una mano? Certo, beh, la definizione di System Integrator in italiano è abbastanza semplice, si tratta di un integratore di sistemi, ma questa parola, questa definizione racchiude in sé molteplici sfaccettature, funzioni, tante diverse competenze. Si tratta sostanzialmente di un'azienda che è specializzata nell'integrazione di diverse tecnologie all'interno di un edificio e di un progetto solitamente molto complesso come quello tipico dell'automazione degli edifici, della Building Automation, che appunto per sua natura è difficile da realizzare con un unico prodotto o con soluzioni di un unico brand. È evidente che il numero di apparati, di tecnologie e le relative competenze specialistiche all'interno di un progetto moderno di automazione degli edifici è notevolmente aumentato nel corso degli anni, mettendo in azione talmente tanti diversi ingredienti, si può dire, che il tipico, classico rivenditore di un tempo, che era fortemente focalizzato sulla componente hardware o solo sulla componente software, comunque sul prodotto in generale che aveva disponibile a magazzino, a scaffale, come si suol dire, oggi farebbe davvero molta fatica a comprendere tutte le possibili interazioni in un contesto come quello attuale che è eterogeneo e multimarca. Si parla in questo senso di integrazione di sistemi in senso esteso, con una conoscenza che deve essere per forza multidisciplinare, da qui naturalmente la crescente responsabilità richiesta al sistema integrator da parte del cliente finale o dell'investitore e la grande occasione da parte del sistema integrator di poter essere anche l'unico interlocutore tecnologico nei confronti del cliente finale, se è in grado di mostrare anche competenze di tipo consulenziale e agnostiche del brand specifico o del prodotto selezionato, ma assolutamente mirate a un concetto di soluzione personalizzata e mirata offerta al cliente stesso di volta in volta rispetto alle esigenze del cliente stesso. Va da sé che la fiducia del sistema integrator e nella sua capacità di calarsi nel business del cliente diventa oggi fondamentale per le aziende, che si possono anche fidelizzare con il sistema integrator che diventa un vero e proprio partner, non più solo un fornitore di prodotti. Viene ingaggiato dal cliente per ottenere insieme un obiettivo comune, che può essere naturalmente quello dell'efficienza energetica, del proprio impianto, del proprio edificio, come tipico requisito fondamentale, magari ragione scatenante dell'intervento, ma poi si estende anche al raggiungimento di obiettivi di aumento e ottimizzazione del business stesso come elemento competitivo all'interno dello specifico mercato del cliente, cosa che oggi è possibile ottenere in vari modi, anche per esempio aumentando la produttività delle persone che lavorano all'interno dell'azienda, che vivono l'edificio ogni giorno. In che modo? Implementando per esempio soluzioni specifiche che comprendano nuove tipologie di servizi dedicati, specificatamente rivolti agli occupanti dell'edificio, cioè ai dipendenti dell'azienda. Diciamo che prima dell'era che stiamo vivendo della digitalizzazione, si può dire che la tipica funzione del sistema integrator fosse semplicemente quella della termoregolazione o dell'automazione rivolta al comfort ambientale. Poi man mano che gli edifici e gli impianti sono diventati più complessi, si è stesa fino a dover connettere diverse tecnologie tra loro differenti, per lo più hardware, comunque far dialogare, ottenere benefici in termini soprattutto di efficienza energetica dell'edificio. Oggi in realtà la funzione del sistema integrator è molto più di questo. È un'azienda che non solo offre prodotti, ma una serie di servizi che vanno oltre l'integrazione e la configurazione, diciamo hardware e software, dei prodotti stessi, ma si spingono fino a veri e propri servizi di consulenza, di manutenzione degli impianti, di gestione degli impianti. Può fare naturalmente questa attività oggi in modo molto diverso rispetto al passato, sicuramente con più flessibilità, con più efficienza, sfruttando per esempio le nuove possibilità a livello di connettività da remoto, le enormi possibilità messe a disposizione dalla rete, dal cloud, senza pensare alle nuove, pressoché infinite, interazioni possibili con l'universo dell'IoT in generale. Capito. Diciamo che Disteck, rispondendo a tutte queste nuove esigenze, ha come propria missione proprio quella di connettere gli edifici e le persone che occupano e vivono questi edifici ogni giorno, non solo aumentando l'efficienza energetica dell'edificio stesso, ma allo stesso tempo come missione di migliorarne la salute e la produttività. Disteck mantiene il suo impegno costante a livello di valorizzazione degli standard aperti e la semplificazione, diciamo, l'ottimizzazione dei vari processi di integrazione dei sistemi, che sono di fatto il lavoro quotidiano del sistema integrator, diciamo. E naturalmente questo, combinato con le enormi possibilità, flessibilità da parte delle soluzioni messe in campo da Disteck, sempre molto attenta ai nuovi trend di mercato, alle nuove tecnologie disponibili, tutto questo, diciamo, rende ogni nuovo edificio pronto per il futuro. In che modo è in grado di gestire e analizzare ogni tipo di dato proveniente dall'edificio, naturalmente rendendolo più comprensibile, quindi più fruibile sostanzialmente per l'utilizzatore finale. Capito. Grazie Matteo per questi primi dettagli e informazioni molto interessanti. Se facciamo un riassunto, il sistema integratore oggi lo vediamo come un legante, se posso dire, primordiale, affinché tutti gli ingranaggi funzionino tra i diversi sistemi nella building automation. Parliamo forse di un conduttore che può garantire l'armonia di questi sistemi. In questo senso mi rivolgo dunque al Presidente Luca, perché lui, riconosciuto sul mercato italiano TecniPost da tanti tanti anni, come ce lo spiegherà, Presidente, prima di portare qualche parola sulle TecniPost di Bologna, presentare un po' la vostra azienda che è un'eccellenza in questo settore. Certo. Grazie Michele, grazie Matteo per questa introduzione molto dettagliata. Prima di iniziare vorrei ringraziare voi e l'intero team di D-Stack Control per avermi invitato a questo episodio del DC TV Show. TecniPost è un system integrator con sede a Bologna che fornisce servizi di ingegneria e delle apparecchiature che consentono ai nostri clienti di ricevere delle soluzioni efficaci per ottenere il comfort nei loro edifici e l'efficienza energetica. Quindi permettiamo ai nostri clienti la massima integrazione nella gestione degli impianti tecnologici degli edifici, consentendo loro un vero risparmio e soprattutto una semplificazione nella gestione. Attraverso l'integrazione dei principali sistemi di controllo presenti all'interno degli edifici riusciamo a fare dialogare tra loro gli impianti che sono diversi, nell'edificio, l'elettrico, il termico, gli impianti speciali, allo scopo di creare una struttura funzionale che possa utilizzare sinergicamente le potenzialità degli impianti d'origine. Cioè, vale a dire, per noi il classica addizione 1 più 1 più 1 non fa 3 ma deve fare più di 3 e anche più di 5, nel senso che vogliamo ottimizzarne l'utilizzo. La nostra storia è piuttosto datata, nel senso che nasciamo nel 1977 per fare tutt'altro, per la vendita di ricambi per impianti di riscaldamento via posta, come è l'assonanza del nostro nome. Negli anni 90 cominciamo ad avvicinarci al mondo della regolazione digitale, già negli anni 80 con la fase della regolazione pneumatica, l'elettrica e l'elettronica. Ma negli anni 90 cominciamo a vendere la regolazione digitale con valore aggiunto, cioè ci trasformiamo non più solo esclusivamente come rivenditori di materiale specialistico elettronico, ma cominciamo a essere degli strumentisti. A fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000 ci specializziamo esclusivamente nella building automation ed in particolare nella parte del BMS. Successivamente diveniamo veri e propri sistema integrator grazie all'evoluzione delle tecnologie e soprattutto la nostra evoluzione principale è avvenuta quando abbiamo cominciato a implementare i servizi di assistenza e di post vendita ai nostri clienti. Abbiamo cominciato ad introdurre dei consigli, delle consulenze su come questi sistemi possono efficientare energeticamente gli edifici e quindi consentire loro dei risparmi. Oggi l'azienda conta più di 20 persone, siamo in 22 e abbiamo una divisione che si occupa della parte commerciale con 5 tecnici commerciali e 12 tecnici addetti alla produzione e alla back office e al service. I nostri clienti sono i clienti del mercato degli installatori in generale, fatto appunto di installatori, di manutentori, di gestori di calore e un nostro anello fondamentale della catena risulta essere la consulenza che diamo in fase di progettazione appunto ai consulenti e ai progettisti. Un punto di riferimento sempre più importante soprattutto nell'ultimo decennio è rappresentato dall'evoluzione della cultura che hanno avuto i nostri clienti finali che si sono dotati di energy manager e comunque sono stati sensibilizzati dai media sul discorso dei risparmi che si possono ottenere applicando nel giusto senso le apparecchiature di automazione. Per cui oggi abbiamo anche questi clienti finali che spesso sono loro che ci sollecitano e ci indicano i loro bisogni. La building automation nell'ultimo decennio ha avuto delle evoluzioni, quindi non più solo come BMS ma come BEMS, come dicevo prima sulla parte energetica, e con interazioni importanti negli ultimi anni anche nel segmento IoT. Quindi ha un aspetto di applicazione veramente molto ampio e comprende una vastissima gamma di settori di riferimento nei quali noi siamo presenti da decenni, nel quale abbiamo realizzato circa 1500 referenze e realizzazioni in una svariata gamma di settori del mercato che vanno da quello industriale ai centri residenziali, alla parte education comprensiva di scuole e alla parte di sanità, nella parte ospedaliera e delle cliniche private, piuttosto che realizzazioni di centri ricreativi, centri sportivi, centri commerciali e anche nel settore bancario. Bene, ottimo. Grazie, grazie Presidente per questa presentazione di Technipost, che è assolutamente uno standard, se posso dire, del building automation in Italia. Comunque, se partiamo, allora, l'evoluzione del system integrator, di questa azienda multidisciplinare, che è multicompetenza, che può adattarsi a diversi progetti, rispondere a diverse domande, che ha dovuto passare da un sistema, si posso dire, primario, quello degli anni 80, a oggi, parliamo di IoT, come l'avete detto, efficienza energetica, manutenzione predittiva, di sicuro, eccetera. Se partiamo da 1980, 82 era un bellissimo anno per l'Italia, lo sappiamo tutti perché, ma partiamo di quest'anno, se partiamo, se vediamo, che cosa possiamo dire e andiamo avanti fino ad oggi. Come possiamo oggi dire l'evoluzione? Partiamo dal punto 1980, dai. Bene, io parto dicendo che nel 1980, giovane e intraprendente, ho cominciato nell'ambito della termoregolazione, allora, no? Perché praticamente la regolazione era applicata prevalentemente agli impianti termotecnici e, come dicevo prima, sostanzialmente la nostra attività era molto basata sul fatto di una rivendita specialistica e soprattutto una rivendita legata a un monomarca, nel senso che c'era una sorta di esclusività vigente in quegli anni. Successivamente c'è stata un'evoluzione, no? C'è stata un'evoluzione, un superamento della regolazione pneumatica, della regolazione elettrica, è cominciata l'era del digitale, grazie appunto anche all'avvento dei computer e fino alla metà degli anni 90 si utilizzavano per lo più protocolli di comunicazione proprietari e le soluzioni di automazione erano soluzioni chiuse, non integrabili, cioè l'ambito era prevalentemente, come dicevo prima, quello di applicazioni nell'ambito dell'HVAC i programmi che noi andavamo a creare spesso non erano semplici ed immediati, quindi erano piuttosto complessi. Con la fine degli anni 90 e l'avvento del nuovo secolo la tecnologia è evoluta notevolmente, con l'introduzione di bus aperti, il primo è stato il Longworks e il Modbus RTU. I controllori sono diventati liberamente programmabili e sono iniziate le prime soluzioni veramente integrabili e interoperabili e anche utilizzando su un impianto apparecchiature di costruttori diversi che utilizzavano lo stesso bus di comunicazione. In quell'epoca si è nata anche, si è introdotta un concetto di supervisione unica per i diversi impianti tecnologici nell'edificio. Quindi questa è stata un'evoluzione importante. Una grandissima evoluzione. Sempre nella seconda parte del primo decennio degli anni 2000 è come si è evoluti verso un protocollo ancora più standardizzato che permetteva di averlo a disposizione non più a pagamento come il Longworks, quindi si è nato verso il BACnet ed è cominciata la connessione remota anche dei sistemi di supervisione, prima tramite modem telefonico e poi nella seconda parte degli anni 2000, cioè dal 2010 in poi, si è sempre andati sempre di più verso una digitalizzazione degli edifici sfruttando il protocollo TCPIP, quindi rendendo disponibili veramente i dati a livello di information technology, creando delle API e offrendo dei nuovi servizi sempre più interessanti per gli occupanti dove fra l'altro DSTEC ci ha supportato in maniera particolare e molto efficace. Il sistema integratore oggi ha un ruolo di consulenta, cioè ha un ruolo di congiunzione tra quelle che sono le proposte tecnologiche dei costruttori e quelle che sono le esigenze dei clienti e utilizziamo, sfruttiamo al pieno le tecnologie sia IP che ad esempio cloud. Ecco, sì sì ma c'è stata un'evoluzione del sistema integratore con le tecnologie che sono state sempre più semplici dopo adattare ai prodotti della building automation, per esempio in 1980, io ritorno su questo, una gestione degli alarmi Presidente per esempio, come si faceva a quel tempo? Non c'era il cellulare, non c'era l'e-mail, non c'era Windows, il primo Windows, Microsoft che è uscito se non mi sbaglio, è il 1985, dunque come si faceva? Esatto, esatto Michel, è chiaro che allora la centralizzazione degli allarmi era un qualcosa sostanzialmente che veniva gestito in maniera pseudo manuale, anzi completamente manuale in quanto non c'era un ribaltamento degli allarmi oggi paradossalmente possiamo vivere il problema opposto, quindi l'affollamento dei dati che arrivano dal campo questi big data che effettivamente sono disponibili, credo che il nostro ruolo oggi sia quello di andare a consigliare i clienti a schematizzare l'arrivo degli allarmi in maniera prioritaria e utilizzando i protocolli TCP, IP e web services a gestire in maniera discriminante allarmi prioritari da quelli che consentono invece che un'attivazione diciamo con tempi meno rapidi. È veramente una cosa importante in quanto anche la ritrasmissione degli allarmi con le nuove tecnologie viene fatta in tempo reale, viene mandato tramite SMS, tramite email, viene discriminato cosa mandare a un utente, manutentore piuttosto che al titolare dell'azienda o al plant manager, quindi diciamo che hai toccato un punto fondamentale che può un attimino rappresentare la vera e propria evoluzione della tecnologia nell'ambito della building automation di questi decenni insomma. Assolutamente anche queste priorità di allarmi per dare più di produttività al cliente e dare un servizio ottimizzato. Quando passiamo negli anni 90 a quel punto parliamo dell'ON, primo se posso dire con il Modbus, come l'avete detto che è il primo protocollo standard aperto per l'interoperabilità dei dati. Io mi ricordo che in 1995 è nata DSTEC. Ecco, dunque prima DSTEC era un distributore, in 1995 DSTEC ha deciso di dire no, io voglio fare i miei controllori per dare un ottimo servizio al mio cliente. Matteo, che cosa è successo in 1995? Sì, esattamente. Quello che è interessante osservare in questo senso è che proprio la storia e l'evoluzione della figura del sistema integrator si intreccia esattamente con la storia di DSTEC, con la nascita di la fondazione di DSTEC che come dicevamo nasce proprio come sistema integrator, prima ancora di diventare costruttore di soluzioni di building automation e come tale, nascendo come sistema integrator, naturalmente ha tutta la competenza, la conoscenza delle esigenze del sistema integrator in termini di flessibilità, apertura. Ed ecco che per questo motivo DSTEC inizia, si trasforma dal sistema integrator a costruttore, mantenendo però le caratteristiche di apertura, di flessibilità, quindi costruendo e rilasciando i propri prodotti, i propri tool, che come dicevamo prima, inizialmente a livello di tecnologie sono per esempio basati su quello che era il protocollo, il primo vero protocollo diciamo standard interoperabile al tempo, cioè la tecnologia LON che grande successo ha avuto negli anni 90 fino ai primi anni 2000 e che proprio garantiva questo approccio nuovo rispetto al mercato di apertura e interoperabilità. Ecco quello che mi piace osservare è che DSTEC ha da sempre mantenuto questo approccio e questa mentalità, questa valorizzazione come dicevo anche prima rispetto agli standard aperti, evolvendosi col mercato ma mantenendo sempre questo approccio, passando come abbiamo visto dalle tecnologie come quella dell'ON in quegli anni a il BACnet e il Modbus fino alle nuove tecnologie rivolte all'IoT di cui stavamo parlando come le API e i web service in generale. Sì, sì, questi ora sono i sistemi web service più evoluti che DSTEC ha nella sua gamba prodotti. Arriviamo negli anni 2000, qui come Presidente Luca ha detto sì c'è un nuovo protocollo più aperto, ancora più popolare se posso dirlo così, che si chiama BACnet. Oggi tutti parlano di BACnet, 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 BACnet. Voi, secondo voi con tutti questi protocolli, parliamo di Modbus, parliamo di LON, parliamo di DALI, parliamo di BACnet, qual è il vostro parere su questi protocolli? Qual è quello che preferite? Vedete una tendenza sul mercato di un protocollo preciso? Come lo vedete? Io posso dire che sicuramente il BACnet, BACnet su IP è quello che oggi un pochino tutti i costruttori specialistici del nostro mercato propongono. È chiaro che una cosa importante è stata quella che anche i costruttori di macchine del mercato, ad esempio tipico della termotecnica, quindi quei costruttori delle pompe di calore piuttosto che delle caldaie, piuttosto che delle pompe di circolazione, hanno dotato le proprie apparecchiature di sistemi di controllo con la possibilità di aperture ed in particolare utilizzando il Modbus, per cui riusciamo veramente oggi a integrare tutte le apparecchiature necessarie e a rendere ottimizzata questa interoperabilità nei confronti appunto di dare al cliente nostro un servizio che possa andare anche all'interno, diciamo, di queste apparecchiature che spesso sono anche energivore, per cui riusciamo ad avere i dati necessari per andare anche ad ottimizzare i consumi. Ecco, qui parliamo di aperture, della forza di avere il dato, il data management, molto importante oggi che vedremo. Matteo, il tuo parere su questi protocolli oggi che tu, nel tuo settore, in Italia, in tutto il sud dell'Europa, vedi anche delle differenze, ci sono delle regioni che hanno più di preferenza, meno preferenza, dovuto forse alle competenze che sono disponibili, competenze del sistema integratore, che è comunque un punto sul quale ritorneremo dopo. Come vedi tu questi sulla tua regione in sud Europa? Sì, è corretto, è interessante osservare come in effetti la diffusione dei vari protocolli standard può variare da regione a regione, da paese a paese, ma tutti mantengono, come diceva Luca, il denominatore comune del BACnet e del Modbus a livello di integrazione dei principali sistemi e sempre più, come diceva Luca, l'integrazione si allarga non solo alla componente tecnologica, ma perché no, abbraccia la gestione delle luci, si spinge fin dentro l'ambiente per una gestione integrata, intelligente, di tutti quelli che sono gli automatismi della stanza, quindi luci e tapparelle, coinvolgendo anche quelli che sono gli standard tipici del settore elettrico, evidentemente, del DALI per la gestione delle luci, anche del CONNECS, del Modbus in alcuni casi, dei nuovi standard per la gestione delle tapparelle come l'SMI, molto diffuso, come dicevo, in alcuni paesi d'Europa, un po' meno in altri. Oltre a questi, chiaramente la tendenza e la convergenza dei sistemi verso l'IT rende, crea nuovi standard di fatto usati, come quello della tecnologia delle API e dei web service, che in qualche modo possono essere definiti come nuovi standard a livello di automazione, che possano integrare anche questi nuovi servizi, questi nuovi concetti nell'evoluzione dello smart building del futuro, diciamo. Ecco, sì, sì, ecco, questo dunque, arriviamo ora in 2010, avete già parlato tanto su questo, la forza del dato, quello che c'è nel controllore, nella supervisione, estrarlo e dare un servizio di più al cliente, questo diventa dunque una forza del system integrator che dimostra la sua competenza. Parliamo, per esempio, della manutenzione predittiva. Presidente, Luca, come la vediamo oggi, questa manutenzione predittiva, che è un punto importantissimo oggi nell'offerta dei sistemi integratori? Certo, la manutenzione quindi ha avuto un'evoluzione in base all'evoluzione tecnologica. Chiaramente, all'inizio, in base alla tecnologia disponibile, eravamo sollecitati ad evento, nel senso che quando si verificava già il guasto, venivamo chiamati per andare a ripristinare l'impianto. Poi abbiamo proposto la manutenzione preventiva, che ha consentito di allungare la vita degli impianti e di andare sostanzialmente, periodicamente, a verificare lo stato di salute degli impianti. Una cosa che abbiamo notato è questa maggiore consapevolezza dei clienti finali verso anche il patrimonio tecnologico che hanno in casa. Quindi, non solamente votato esclusivamente al core business, ma anche votato al corretto utilizzo dell'involucro dell'edificio e anche al corretto stato di comfort e ottimale di salute degli occupanti. Questa è una sensibilità che è aumentata. Ecco, la manutenzione predittiva, grazie appunto alla tecnologia che consente di avere tanti dati a disposizione, che devono essere selezionati, consente di andare ad aggiungere un ulteriore tassello alla manutenzione preventiva, cioè di andare ad ipotizzare un possibile guasto nel tempo successivo e quindi andarlo a prevenire, chiaramente andando ad evitare il disagio degli utenti o, quando si parla di processi produttivi, anche di andare a evitare dei fermi piuttosto onerosi. Ora, su questa parte, sulla manutenzione predittiva, se ne parla tanto, però il mercato la intuisce, comincia a conoscerla in parte, ma ancora non la comprende completamente nei vantaggi enormi che possono derivare adottando servizi di questo tipo. Ecco, cosa abbiamo bisogno noi come system integrator? Abbiamo bisogno di un'azione di co-marketing con i nostri fornitori per andare a sensibilizzare assieme i nostri clienti sui vantaggi dell'adozione di queste tecniche. Capito, dunque qui orientiamo ancora nel cuore del ruolo del system integrator per dare, se posso dire, questa informazione sul mercato e orientare anche il mercato. Sono delle aziende come TecniPost che ci aiutano anche noi di Steck e su questo non abbiamo abbastanza tempo per ringraziare questa azione. Riguardando dopo le competenze del system integrator tecnico-commerciale, se posso dire, cioè siamo partiti in 1980, termoregolazione, siamo oggi a 2020, abbiamo già l'intelligenza artificiale, manutenzione predittiva, cioè parliamo di più di modello IoT, del cloud. Secondo voi le competenze, che cosa deve fare il sistema integrator, quel ruolo importante di formarsi per il sistema integrator e qual è il ruolo importante per il costruttore aiutare a dare sempre questa informazione e queste competenze? Io parlo appunto, parlando come system integrator, una cosa importantissima che ci viene chiesta è un'evoluzione verso la parte di digitalizzazione, quindi verso tutta la parte dell'information technology. Abbiamo bisogno di implementare, la nostra azienda lo sta già facendo, una sorta di formazione continua, una sorta di informazione continua di tutti i nostri collaboratori e anche dei nostri clienti. Una formazione quindi sia commerciale che di carattere tecnico, perché le tecnologie che sono sempre più a disposizione in maniera diffusa vanno utilizzate al meglio e credo proprio che ribadisco il nostro ruolo sia quello di creare delle soluzioni tailor made per i nostri clienti, ascoltandoli e capendo le loro esigenze. Quindi il nostro ruolo è quello di essere informati, di poter formare anche i nostri clienti, ma soprattutto di essere loro vicini quotidianamente. Questo anello di congiunzione è molto importante. Poi l'evoluzione tecnologica in sé ci dà una grande mano, perché oggi una delle cose ad esempio su cui noi stiamo puntando è questa evoluzione che ci consente di utilizzare anche delle dotazioni, come ad esempio possono essere dei commissioning fatti a distanza, con, diciamo, dotando il personale manutentivo in loco di caschi con telecamera e tramite applicazione di realtà aumentata andare a utilizzare queste persone che non hanno lo skill magari dei nostri ingegneri come bracci operativi direttamente in loco per andare appunto ad eseguire azioni di commissioning. Quello che chiediamo ad aziende come distec, che lo sta già facendo ed è stato anche precursore di questo nell'ambito delle apparecchiature, soprattutto quelle da noi più utilizzate, che sono i room control, di avere la possibilità di apparecchiature che semplifichino la vita dei nostri clienti e semplifichino la vita dei nostri tecnici nella parte di commissioning. Ottimo, ottimo, grazie Presidente. Matteo, le competenze che possiamo dare? Il costruttore, sì, posso aggiungere che naturalmente, come dicevo prima, DISTEC ha il vantaggio di essere nato come sistema integrator, vantaggio perché secondo me questo ha dato a DISTEC il tipo di flessibilità e di approccio, la conoscenza delle esigenze quotidiane del sistema integrator in termini di flessibilità, apertura ed è per questo che DISTEC si è naturalmente strutturata per dare questo supporto sia dal punto di vista tecnico con un team dedicato, specializzato, molto reattivo di supporto tecnico, che dal punto di vista di formazione continua nel tempo è dedicata sia, come diceva Luca, alle persone in campo che si occupano dell'attività di commissioning piuttosto che di programmazione vera e propria, quindi per gli ingegneri magari più esperti, strutturando un percorso di formazione continuo focalizzato rispetto alle esigenze reali e quotidiane del sistema integrator in modo da garantire evidentemente una soddisfazione finale, comune del cliente finale. Ottimo, ottimo, grazie Matteo. Dunque, per finire, prima delle domande e risposte che il nostro pubblico ci sta chiedendo, una piccola sintesi, così. L'evoluzione del sistema integrator, del ruolo del sistema integrator nella building automation in Italia. Parliamo che il ruolo è cambiato, questo è di sicuro, passiamo di un rinveditore verso un esperto in tecnologia, un consulento, uno che va a orientare una soluzione, che va a dare, se posso dire, una nozione, un'informazione, una visione, ecco, sul mercato. Se mi sbaglio, fermatemi, se ho capito bene, perché voi siete gli esperti, dunque, l'impatto della tecnologia, ecco, importantissimo, ha obbligato, se posso dire, il sistema integrator di mettersi sempre a giorno con questa digitalizzazione dell'edificio. Parliamo dunque del smart building, di più e di più. Se voi lo smart building ne fate, avete parlato delle soluzioni che implementate, che proponete sul mercato, una soluzione interessante sul smart building, di D-STEC, utilizzata tanto da Technipost, e quella degli uffici, per gli uffici. Se volete fare un piccolo, appunto, su questo, non esitate, interrompermi. Adattare la proposta verso il cliente. Dunque, il sistema integrator non è solo un tecnico di termoregolazione oggi. Oggi il sistema integratore è, se posso dire, il consulente tecnologico. È quello che va a aiutare il CAPEX e OPEX di un progetto, di un'installazione. Ecco, se ho capito bene, che cosa ne pensate? Sì, è interessante quello che stai dicendo, Michel, perché hai toccato un punto cruciale. Cioè, in questa grande proposta di carattere tecnologico, credo che il ruolo odierno e anche futuro del sistema integrator sia quello dell'umanizzazione tecnologica. Cioè, portarla effettivamente verso le esigenze del cliente per non smarrire quello che deve essere il vero focus. cioè di avere sempre al centro l'uomo, l'uomo che lavora, ad esempio, nel caso in cui andiamo appunto a realizzare situazioni di automazione negli edifici lavorativi, ma anche quello che si diverte, anche quello che trascorre il tempo libero negli edifici in palestre, cinema, teatri e quant'altro. E dobbiamo garantire il benessere dell'uomo e sempre guardare alla sostenibilità. Quindi credo che abbiamo sia un ruolo di carattere tecnologico, come operatori tecnologici siamo al centro di questo, ma anche un ruolo sociale molto importante. Perché parliamo degli smart building che devono essere componenti fondamentali delle smart city. Quindi, dietro tutti questi termini che sono molto frequenti nell'ambito della comunicazione odierna, ci sta l'uomo con delle esigenze spesso che non sono le stesse nelle varie applicazioni. Ecco, il nostro ruolo è quello di capirle e di tradurle in pratica. Poi, come dicevo, l'evoluzione tecnologica noi dobbiamo assolutamente essere al passo con l'evoluzione. Il mestiere, come hai detto te, è veramente cambiato in maniera radicale in questi ultimi 40 anni. Oggi dobbiamo anche noi andare verso delle tecnologie come il Digital Twin, la progettazione in BIM. Quindi, sono tutte cose che ci toccano già e che ci toccheranno sempre più in futuro. Questo dobbiamo oggi installare delle tecnologie corrette negli edifici per consolidare il valore del patrimonio dei nostri clienti e il loro benessere e la sostenibilità. La valorizzazione dell'edificio è importantissimo. Questa è una nozione, lo so, da DSTEC che porta questo messaggio sul mercato. Matteo, su questa valorizzazione? Sono d'accordo con Luca assolutamente rispetto a questo aspetto e magari ripetendomi, infatti, mi piace comunque sottolineare che proprio DSTEC nella sua mission ha esattamente questo obiettivo, cioè quello non solo di naturalmente rispondere alle necessità di efficienza energetica crescente, ma anche e soprattutto un focus rispetto all'esperienza degli occupanti dell'edificio implementando e sviluppando soluzioni che vadano proprio a migliorarne l'esperienza aggiungendo nuovi servizi perché una delle missioni come dicevo è di aumentare anche la salute e la produttività delle persone che vivono gli edifici ogni giorno e come sappiamo mediamente viene calcolato che il 90% del tempo lo spediamo all'interno degli edifici diventa cruciale naturalmente concentrarsi su come viviamo l'edificio ogni giorno e rendere questa esperienza la migliore possibile. Assolutamente. Ecco io volevo riprendere un attimo per rafforzare questo concetto di Matteo con esperienza pratica da parte nostra come dicevi Michelle prima noi abbiamo in particolare utilizzato D-Sticker per quello che riguarda la parte di controllo ambiente il room control cosa abbiamo fatto per riuscire ad implementare la nostra proposta abbiamo semplicemente fatto vedere ai nostri clienti toccandoli con mano anche cosa può fare una regolazione di stick all'interno dell'ambiente interfaccia semplici intuitivi una reattività immediata questo ha fatto sì che il cliente si rendesse conto del beneficio che ne poteva trarre dall'utilizzo di queste tecnologie che le abbiamo portate proprio nella cosiddetta user's experience quindi questa è stata fondamentale e disti che intraprendendo questa strada a mio parere ha intrapreso la strada giusta e corretta cioè andare a capire dall'esperienza dei clienti andare a replicare i benefici e le cose positive per far sì che le cose vengano comprese quindi non solamente una proposta tecnologica ma una tecnologia applicata alla pratica perfetto e visto che le aspettative da parte degli occupanti sono crescenti è chiaro che per esempio oggi nasce la necessità di rispondere a queste esigenze per esempio con un discorso di applicazioni mobile di applicazioni mobile multiservizi per gli occupanti ecco che in effetti da questo punto di vista distec diciamo alcune soluzioni mirate molto molto interessanti perfetto bene bene dunque abbiamo fatte le conclusioni di questa bellissima trasmissione vi ringrazio già in anticipo su tutto questo ora vediamo le domande e risposte dei nostri colleghi amici vicini e lontani che ci hanno ascoltati oggi e rispondiamo insieme a queste domande grazie 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 Grazie.